Bevi Ale? Bevi inizio quando bevi. Vai. Perché tutto vuoi? Alessandra, dove siamo? A Lisbona. Ma dove? Siamo in un posto che si chiama, non lo ricordo. E con chi siamo? Vertigo, Vertigo. Vertigo, Vertigo. Che siamo? Siamo con il contemporaneo e l'ottocentesco. Sempre loro? Sempre loro. E d'altro quando ci vengono gli altri, ci vengono a fare una. E qual è il tuo gramma di oggi? Ah, si è fatto un metà percorso. Tutto un sale in scena? Sì, tutto un sale in scena e ora si beve il sidro. Il sidro è buonissimo. Sì, buonissimo. Vorrei far notare che te ci sono dei bellissimi ritratti di donne in carne. E' un po' sessista questo commento. E' un po' sessista questo commento. E invece sono dei giovani. In carne, perché non dici in carne? O brutti? Sono più fini. Ma sono più fini. Insomma, che compagnia siamo? Gentaggi. Gentaggi. Ma donne in carne? E' vero, diciamo.